Trentasettesimo appuntamento radiofonico settimanale con la voce al Sindaco, la rubrica di approfondimento della testata giornalistica di Radio Dimensione Musica. Il primo cittadino espicese, Innocenzo Leontini, discute al microfono del nostro giornalista Piero Giunta sui fatti sociali e politici avvenuti durante la settimana appena trascorsa. Il Sindaco Innocenzo Leontini fa il preciso e puntuale punto informativo settimanale sulla situazione del Covid-19 ad Ispica. Alla voce al Sindaco, su nostra domanda, il primo cittadino espicese risponde alla nota stampa della minoranza, parla degli atti di vandalismo verificatisi presso la Basilica di Santa Maria Maggiore e invita le associazioni culturali della città a collaborare con l'amministrazione Leontini nell'aiutare a presentare la candidatura UNESCO della città di Ispica. Ascoltiamo Innocenzo Leontini. Sindaco Innocenzo Leontini, cafi Covid altalenanti che oscillano di giorno in giorno. Ispica mantiene un numero basso rispetto alle altre città della provincia. E allora Sindaco ci dia gli ultimi aggiornamenti. Ciao Piero, a tutti i radioascoltatori e a tutti i cittadini che ascoltano. Oggi, lunedì 2 agosto, i casi censiti di Covid ad Ispica sono 29. È vero che negli ultimi quattro giorni il dato è passato da 5 a 29, quindi si tratta di un sensibile aumento. Ma è vero che questo aumento è il più contenuto tra quelli che hanno riguardato tutti i comuni della provincia di Ragusa negli ultimi dieci giorni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Infatti a Modica siamo arrivati a 117, a Pozzallo a 116, a Ragusa a 235, a Comiso a 121, a Scicli a 114, a Vittoria 519, un disastro, a Santa Croce e Camerina 145. Forse quello di Camerina, di Santa Croce, è ancora più grave di Vittoria in proporzione, trattandosi di un comune con una popolazione ben nettamente inferiore a quella di Vittoria e degli altri comuni. Cosa dire? Ispica sta controllando gli aumenti. Siamo in un momento delicato. Dobbiamo stringere i denti, non dobbiamo dismettere mai le mascherine e dobbiamo evitare gli assembramenti. Siamo ritornati a fare tutti i controlli, abbiamo effettuato i tamponi giorno 29 luglio, 221 tamponi tutti negativi. Stiamo facendo di tutto per mantenere il dato non influente, ma il trend sta riguardando la provincia e la Sicilia e quindi dobbiamo continuare a vigilare, a sforzarci e a stringere i denti. La domanda è la risposta che si aspettano in tanti, o meglio, chi segue oggi direttamente o indirettamente la politica esplicefe. I configlieri di minoranza non hanno partecipato alla seduta urgente del Consiglio Comunale di sabato convocato per le 14 e in una nota stampa, leggo alcune righe del comunicato, scrivono. In questa circostanza, preso atto del ripetersi di certi atteggiamenti e condotte, l'opposizione consuma uno strappo istituzionale, sperando che anche i configlieri comunali di maggioranza possano rinvalvire e pretendere maggiore rispetto istituzionale e politico, anche per loro stessi non avvallando praffi che avverano il dialogo e il confronto istituzionale tra i rappresentanti dei cittadini nel rispetto dei ruoli. A proposito della convocazione del Consiglio Comunale, avvenuta il giorno prima della scadenza prevista per l'approvazione del PEF, piano economico-finanziario e delle relative tariffe, io sottolineo che abbiamo dovuto fare un lavoro lungo e complesso per mettere in fila tutti gli addempimenti che avrebbero dovuto essere espletati anche negli anni precedenti e che l'amministrazione precedente non ha mai espletato. Questo lavoro ci ha portati a chiudere sul fino di lana dell'ultimo giorno utile la questione e l'approvazione di questa importante delibera. Il ritardo è anche dovuto al fatto che era necessario attendere il lavoro affidato alla GF Ambiente SRL che ha avuto dei tempi tecnici da smaltire con un elaborato che ci è arrivato da parte loro solo il 29 luglio. Per determinare le tariffe abbiamo utilizzato la stessa superficie imponibile del 2020 e grazie al lavoro e alla professionalità di tutti i soggetti coinvolti e in particolare del ragioniere Spada siamo riusciti a contenere l'inevitabile aumento delle tariffe soprattutto per le utenze domestiche. Per la prima volta si è sviluppato un piano economico finanziario della Tari della tassa cioè sulla raccolta dei rifiuti mai disposto da questo ente, mai disposto dal comune di Ispica che l'amministrazione precedente inadempiente su tutto ha lasciato nel cassetto lettera morta il PEF è stato redatto seguendo le indicazioni fornite dall'ARERA e dal lato 7 e seguendo le linee guida ARERA la quantificazione del PEF 2021 è stata determinata per il valore complessivo di 3.595.924,74 euro. Di fatto non abbiamo praticato aumenti in merito al servizio abbiamo semplicemente messo a norma la procedura nel rispetto di quanto richiesto dalla legge il lavoro fatto quest'anno ci ha permesso di conoscere quali sono le potenzialità che l'ente ha per abbattere le tariffe successivamente quindi lavoreremo sull'evasione e sull'accertamento reale delle superfici tassabili oggi quantificate in metri quadrati 1.145.860,03 siamo sicuri che questo ci permetterà per l'anno prossimo di avere la reale tariffa per l'Atari abbiamo dovuto compiere quindi un lavoro che non è stato compiuto dalla precedente amministrazione e poi vorrei dire a tutti i telescoltatori il ritardo, la approvazione degli argomenti all'ultimo momento è una disciplina olimpionica dell'amministrazione Muraglie e Compagnia Bella cioè loro erano campioni del mondo nel portare gli argomenti l'ultimo quarto d'ora dell'ultimo giorno utile ci siamo forse dimenticati del piano di riequilibrio ci siamo forse dimenticati di tanti altri atti che questa amministrazione che l'amministrazione precedente ha portato all'ultimo momento come fanno ad attribuire a noi una condotta che è stata la condotta principale della loro attività amministrativa e quindi vanno a guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro cioè vanno ad inventare, a costruire critiche sull'aspetto che era più criticato all'interno della loro amministrazione riguardando la loro amministrazione a me pare che questi siano degli argomenti veramente artificiosi artefatti e costruiti proprio per non aver nulla da dire se avessero partecipato al Consiglio Comunale queste cose non le avremmo dette perché non hanno partecipato al Consiglio Comunale? non hanno partecipato al Consiglio Comunale perché si sarebbero sentiti dire che questo adempimento avrebbe dovuto essere espletato da loro non lo hanno mai fatto 2017 non fatto 2018 non fatto 2019 non fatto 2020 non fatto lo abbiamo fatto noi nel 2021 e si alzano loro improvvisamente si svegliano e credono di attribuire ad altri il ritardo dell'ultima giornata ma poi evidenziano scollamenti scollamenti cioè Muraglie è stato il direttore d'orchestra di uno scollamento continuo cioè la sua amministrazione non era un'amministrazione era uno scollamento continuo e prima l'assessore Di Stefano e poi l'assessore Barone e poi l'assessore Corallo e poi l'assessore Nolano e poi l'assessore Evelina Barone e poi l'assessore Beppe Pluchinotta cioè non hanno mai finito di curare scollamenti e come si fa ad attribuire scollamenti ad altri quando si è fatto per cinque anni il governo degli scollamenti i campioni olimpionici dello scollamento parlano di scollamento all'interno della mia amministrazione fanno ridere ecco perché a me serve questo minuto in più proprio per dire che non hanno nulla da dire perché lo dimostreremo nel comizio che faremo il 15 settembre per celebrare l'anno di amministrazione che cos'è che non hanno da dire è quello che abbiamo da dire noi Findaco la lingua batte dove il dente duole così si dice ne avevamo parlato alla voce al Findaco qualche settimana fa atti di vandalismo che si ripetono questa volta i vandali hanno cambiato quartiere e parrocchia dal quartiere dell'Annunfiata si sono spostati nel quartiere di Santa Maria Maggiore ed hanno preso di mira e staccato una lastra di pietra della scalinata naturalmente oltre al danno hanno lasciato la firma ed il fegno con l'abbandono di bottiglie di birra e quant'altro poi magari nelle prime ore del mattino stanchi hanno fatto pure il pisolino tutto questo per dire Findaco che il problema del vandalismo nella nostra città è fiste e le fiste cosa dire Findaco a lei la riflessione? Sì Piero è vero si sono verificati negli ultimi tempi dei comportamenti poco corretti per non dire incivili da parte di gruppi di persone soprattutto giovani in alcuni quartieri della nostra città questi comportamenti hanno raggiunto una gravità notevole quando sono intervenuti a deturpare parti dei nostri monumenti religiosi come è accaduto nella piazza di Santa Maria dove alcuni giovani sono rimasti fino alle prime ore del giorno a usare alcol bevande super alcoliche e hanno anche manomesso alcune lastre sottostanti il cancello rovinandone una spezzandolo in due parti gravissimo così come è accaduto nel quartiere dell'Annunziata più volte le risse comportamenti sgradevoli manomissioni di grondaie schiamazzi notturni tutto ciò che rientra nei comportamenti della della peggiore risma definiamoli così io ho sollecitato le forze dell'ordine ne ho parlato anche al prefetto so che dei controlli a volte vengono effettuati ma non sono sufficienti perché non sono continui d'altronde a controllare l'inciviltà non è sufficiente l'intervento una tantum di una volante è difficile ovviare a comportamenti che sono sistematicamente irregolari noi stiamo pensando nei prossimi giorni ad utilizzare qualche ora in più per i vigili urbani compatibilmente con la condizione di sesto ad utilizzare anche altre forme di controllo dei quartieri con delle presenze autorizzate che possano collaborare con l'amministrazione affinché i quartieri siano diciamo normalizzati riportati all'ordine al silenzio notturno insomma siano evitati gli assembramenti siano evitati gli superalcolici per strada le bottiglie di vetro i danni alle abitazioni e alle macchine siano evitate le risse la sporcizia mattutina in grandissima quantità tutto ciò che rientra nelle situazioni che tu hai descritto proprio nei prossimi giorni stiamo pensando ad una soluzione che riguarda esattamente questo aspetto non ultima la possibilità di installare delle telecamere per individuare i soggetti che ripetono queste azioni e cominciare con delle segnalazioni e delle contravvenzioni che possano indurre a più miti consigli e possano consentirci di controllare la presenza soprattutto giovanile nelle ore notturne in questi quartieri tra me e me riflettevo sindaco sulle sue parole dette martedì scorso alla presentazione del numero 16 della rivista Le Muse lei invitava l'associazione preseduta dal professor Blanco infieme alle altre ad una collaborazione culturale con iscritti e con altro materiale nell'aiutare l'amministrazione comunale a presentare la candidatura onesco della città di Ispica ne vuole parlare alla voce al sindaco vuole spiegare meglio alla città e a chi ci ascolta si Piero io ho approfittato della mia presenza della mia partecipazione all'ultimo numero della rivista Le Muse per sollecitare il professore Blanco e tutti i collaboratori della rivista e l'intera associazione a curare un numero monografico della rivista sulla architettura tardo-barocca di Ispica sarebbe un grande aiuto di questa illuminata rivista all'amministrazione che sta facendo lo sforzo di fare riaprire il dossier unesco e inserire la città di Ispica siccome a febbraio finisce diciamo così l'istruttoria e quindi dovremmo da qui a febbraio documentare indicare bibliografia fornire dati sulla importanza rilevanza storica storico-monumentale estetica stilistica dei nostri monumenti dei monumenti prescelti cioè la Chiesa Madre la Chiesa dell'Annunziata Santa Maria Maggiore Sant'Antonio il Carmine e Gesù credo che tutto questo possa con grande interesse essere affrontato dalla rivista Le Muse e essere trattato con la competenza che è propria ai collaboratori della rivista con un risultato che potrebbe essere di grande ausilio per le attività che l'amministrazione sta svolgendo per fare riaprire il dossier in collaborazione con la società civita che è quella che si sta occupando proprio dell'istruttoria quindi io ho lanciato questo sassolino nello stagno ho cercato di raccogliere un'adesione in questo senso mi è stato detto che nei prossimi giorni nelle prossime settimane potremmo parlarne e magari ecco avviare la elaborazione di un numero unico di un numero monografico della rivista sulla sulla nostra monumentalità religiosa tardo-barocca post-sismica in modo da evidenziare gli elementi che noi abbiamo in comune con gli altri comuni inseriti da Noto a Ragusa Ibla da Modica a Scicli e così via per evidenziare che il Sinatra è stato ad Ispica come a Noto che il Gagliardi è stato ad Ispica a Noto a Ragusa Ibla e a Modica che i Cotrera sono stati ad Ispica a Scicli e così via per evidenziare che il cantiere tardo-barocco è stato un cantiere unico omogeneo e che Ispica merita di essere inclusa ed inserita credo che la rivista Le Muse abbia tutti i titoli per assolvere a questo compito e assolverle a questo compito con preparazione e con studio e approfondimento la stessa richiesta faremo all'altra rivista esistente ad Ispica che è Ispice Fundus che potrà anch'essa dare il suo illuminato contributo ne parleremo in occasione della presentazione della rivista che avverrà alla fine del mese di agosto e credo che con il contributo di questi due strumenti di comunicazione culturale di cui disponiamo nella nostra città possiamo raggiungere il risultato sperato comunque ecco ottenere un contributo qualificato con la voce al sindaco diamo appuntamento a lunedì prossimo ringrazio Inocenzo Leontini Piero Giunta per Radio Dimensione Musica Piero Giunta Piero Giunta Piero Giunta Piero Giunta Piero Giunta Piero Giunta